Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con il caso che da circa due settimane sta scuotendo tutta l'Italia. È prevista per domani la consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, assassino della giovane Giulia Cicchettin, che arriverà alle 12.30 all'aeroporto di Venezia con un volo militare dalla Germania. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha portato al mandato d'arresto europeo emessa dal GIP di Venezia Benedetta Vitolo, su richiesta del procuratore Bruno Cherchi e del PM Andrea Petroni, vengono contestati allo Stato l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva, terminata perché Giulia aveva lasciato Filippo la scorsa estate e il sequestro di persona. Bisognerà aspettare fino a lunedì per l'interrogatorio di garanzia del 22enne responsabile della morte della giovane ragazza. Continuano nel frattempo le indagini, dopo la notizia di ieri sulla mancata risposta da parte delle forze dell'ordine alla chiamata effettuata alle 23.18 dal testimone di Vigonovo al 112. Oggi è venuto a galla un nuovo elemento, ennesima conferma dell'ipotesi di premeditazione da parte di Filippo. Pare infatti che alcuni giorni prima di quel terribile 11 novembre Turetta avesse acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. Ma non è tutto, l'assassino avrebbe infatti addirittura effettuato un sopralluogo sul luogo del delitto poche ore prima di incontrarsi con la vittima. L'aggravante della premeditazione, se confermata, comporterebbe l'attribuzione della massima pena prevista, ovvero l'ergastolo, e l'impossibilità, come previsto dal codice penale, di poter richiedere il rito abbreviato. La procura, inoltre, potrebbe contestare anche il reato di occultamento del corpo che Turetta aveva nascosto in un'area boschiva vicino al lago di Barchis in provincia di Pordenone a due ore di macchina da Vigonovo. Nel frattempo continuano le manifestazioni di protesta contro la violenza sulle donne e in ricordo di Giulia. Anche oggi sono state migliaia le persone che alle 17 si sono presentate in Campo Santa Margherita per il corteo organizzato da non una di meno Venezia. Sempre oggi, alle 11.30, davanti alla sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, sono state installate due panchine rosse in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. Presente alla cerimonia anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Bisogna istituire un modo per capire cosa sia nato tutto questo. E voi potete darci una mano perché voi siete il futuro e ognuno di voi parlando, cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti, agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Questo mi sento di dire dal cuore e io mi promuoverò finché qualcosa di positivo nasca, perché Giulia non me la restituirà più nessuno, ma dalla morte di Giulia voglio far nascere tante belle iniziative. A farsi sentire finalmente in prima fila i più forti che mai sono anche le rappresentanti e le portavoci di associazioni e centri antiviolenza che ripetono incessantemente quanto sia necessario predisporre programmi di istruzione e formazione in tutti i settori, affinché la mentalità alla base di queste violenze venga scardinata dalle fondamenta. Ascoltiamo l'intervista a Mariangela Zanni del Centro Veneto Progetti Donna. Il concerto di sabato Respect, che si interrò al Centro Culturale Antinate San Gaetano alle 21, è stato pensato come evento per il 25 novembre del Centro Antiviolenza insieme al Coro Polifonia per raccogliere fondi proprio per le attività del Centro Antiviolenza. In questo momento in cui l'attenzione è molto alta, c'è una sensibilità importante delle persone verso il tema della violenza, è importante anche però sapere che i presidi, che le donne prendono riferimento per uscire dalla violenza, quindi i centri antiviolenza scontano una costante carenza di finanziamenti e di fondi per poter mandare avanti le proprie attività ed è per questo che abbiamo organizzato un concerto il cui obiettivo è proprio la raccolta fondi per sostenere le attività quotidiane delle operatrici che insieme poi alle donne costruiscono percorsi di fuoriuscita della violenza. I biglietti del concerto sono disponibili nel nostro sito, quindi www.centrodonnapadova.it cliccando sulla news del concerto si accede al sito per acquistare i biglietti e fare la propria donazione per il Centro Antiviolenza. È stato nominato nel frattempo un nuovo legale che affiancherà l'avvocato Emanuele Compagno, nominato d'ufficio per rappresentare Filippo Turetta. Sarà Giovanni Caruso del Foro di Padova, professore ordinario di diritto penale. Una scelta quasi obbligata vista la tempesta di critiche abbattutasi su Compagno dopo che la giornalista Charlotte Matteini ha scoperto la presenza di post misogini e violenti sui profili social dell'avvocato. Parole e concetti che non possono definirsi altrimenti se non agghiaccianti come l'alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l'uomo, una totale deresponsabilizzazione della donna come fosse un oggetto incapace di autodeterminarsi. E ancora in una pubblicazione risalente al 25 novembre 2020, nella giornata contro la violenza sulle donne, è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. È giusto ricordare tutti di fronte alla violenza. Ma l'apice si tocca con il post ancora presente sulla pagina social dell'avvocato del novembre 2015 in cui si parla della festa di Halloween e si legge non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da in giro per il paese e nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando i campanelli. Vergognatevi. Voltiamo decisamente pagina e spostiamoci a dolo per parlare del tentativo di rapina effettuato nel tardo pomeriggio di ieri ai danni della tabaccheria di via Zinelli. Erano le 18.45 quando due agenti della polizia locale di Pattuglia nella zona si sono accorti di un ragazzo con la pistola in mano a meno di due metri dalla porta del negozio. È bastato un minuto e il tempo necessario ai due militari per indossare il giubbotto antiproiettile perché il giovane sparisse nel nulla. Molto probabilmente vedendo l'auto della polizia in avvicinamento il ragazzo ha preso paura ed è fuggito. Ora restano però le domande sull'identità del ladruncolo e sul perché avesse tra le mani una pistola che da come veniva maneggiata non sembrava essere un'arma giocattolo. Stando alla descrizione fornita da uno degli agenti il giovane dalla carnagione chiara e dai capelli scuri indossava una felpa nera. I due poliziotti dopo aver chiuso parte della strada per sicurezza hanno immediatamente avvisato i carabinieri che sono giunti poco dopo sul posto a sirene spiegate. Al loro arrivo però del ragazzo si era già persa ogni traccia. Continuano nel frattempo le indagini dei militari per cercare di recuperare informazioni utili dalle immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza a disposizione sull'area comprese ovviamente quelle della tabaccheria. Solo la sera prima in centro a Mestre due minorenni avevano seminato il panico tra i passanti in Riviera 20 Settembre prima di essere fermati e denunciati per procurato allarme. Camminavano a piedi e uno dei due teneva una pistola giocattolo in mano a cui era stato però rimosso il tappo rosso in modo tale che sembrasse un'arma vera. Un trucchetto perfettamente riuscito tant'è che un testimone ha subito chiamato il 113 chiedendo spaventato l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo della volante della polizia i due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati prima identificati e poi denunciati all'autorità giudiziaria che ne ha poi deciso l'affido a una comunità. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. È arrivato in piazza San Marco alle 12.30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accoglierlo all'ingresso dei Giardini Reali. È stato il primo cittadino Luigi Brugnaro. Presidente e sindaco si sono poi diretti alla casa dei Human Safety Net, nelle procuratie vecchie della piazza dove hanno svolto una visita privata. L'arrivo a Venezia del presidente Mattarella è dovuto alla sua partecipazione alla prima del Teatro La Fenice, le Conte Doffmann di Offenbach, prevista proprio per questa sera. Voglio esprimere grande soddisfazione per la conferma che il capo dello Stato mi ha dato riguardo alla sua presenza, ha dichiarato il sindaco Brugnaro, che conclude Grazie presidente per il grande onore. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.